In migliaia i pellegrini che hanno affollato Rocca Montepiano in onore di San Rocco. Proprio oggi la festa del Santo, che secondo una leggenda popolare lo volle di passaggio in paese nella seconda metà del XIV secolo. Qui, secondo un'ipotesi non ancora documentata, il giovane Rocco si rifugia in una grotta, dove ancora oggi sgorga una sorgente, dove ogni anno sono migliaia i pellegrini e i visitatori che vengono a bagnarsi nelle fresche acque del Montepiano. Tanti gli ex voto nel santuario, dove questa mattina sono intervenuti anche il presidente della regione, Marco Marsilio, il commissario della ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini, e l'arcivescovo di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte, che ha celebrato la Santa Messa. Chi visita la grotta lascia una monetina come rito propiziatorio, riporta a casa un vaso o un piatto in ceramica con dipinta a mano l'immagine del santo. Ai festeggiamenti presenti naturalmente anche il padrone di casa, il sindaco Dario Marinelli, che insieme al Comitato Feste e al parroco Padre Francesco Iannemico ha organizzato il tutto, assicurando ai visitatori parcheggi e servizio di sicurezza e vigilanza. Ricca anche la serata con la processione delle conche devozionali e il concerto di Marine, giovane e promettente cantante pop. A seguire infine a mezzanotte i fuochi d'artificio, mentre la festa continuerà fino alla mattina successiva con la notte bianca per i giovani.